Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora sono iniziate ufficialmente le primarie per la corsa alla Casa Bianca novembre 2024, iniziata per quanto riguarda i repubblicani in Iowa, dove ha non vinto, ha stravinto col margine più largo di sempre il 51% Donald Trump. Pensate che il secondo, che tra l'altro 12-18 mesi fa tutti davano come un avversario molto agguerrito, anzi forse addirittura favorito nei confronti di Donald Trump, Ron DeSantis, si è fermato al 21%. Mai si era visto, ripeto, un distacco del genere. Tanto che Biden a denti stretti ha dovuto affermare che è molto probabile che il suo candidato sarà appunto Donald Trump. Ora, qualche volta mi è successo, anzi spesso direi, che qualcuno mi ha scritto o ha messo dei post anche sui miei social dicendo ma cosa ve ne frega a voi che vinca Trump o Biden è la stessa identica cosa, per noi andrà sempre male e quindi cosa ce ne occupiamo che vinca l'uno o l'altro non cambia nulla. Non è vero, non è vero perché lo dimostrano i fatti. Basta citare la politica estera da parte di Donald Trump. Ci dobbiamo sempre ricordare che uno dei paesi più pericolosi al mondo sicuramente perché dispone di armi chimiche, la bomba nucleare e così via c'è la Nord Corea. Ecco, con il leader della Nord Corea Trump è stato praticamente negli ultimi decenni l'unico presidente americano a poter andare a far visita al presidente proprio in Corea e sicuramente c'era stato da parte di Donald Trump un avvicinamento a quel tipo di dittatura che forse è la dittatura più feroce nel mondo, uno fra le più feroci nel mondo. Ma anche per quanto riguarda tutto il resto della politica estera, Trump è uno che ritiene che gli americani debbano iniziare a farsi più i fatti loro che non andare in giro per il mondo a fare i fatti degli altri. Questo è sempre quello che lui ha enunciato. E non so come, cosa sarebbe successo ad esempio in Ucraina, non lo sapremo mai, forse ci sarebbe stato ugualmente la guerra, ma sicuramente Donald Trump avrebbe fatto dei tentativi maggiori di quanti non li ha fatti Biden per evitare quello che è successo e soprattutto in chiave futura, siccome non è dietro l'angolo la fine di questa guerra, Donald Trump potrà fare molto. E voi capite che una stabilità nel mondo, anche dal punto di vista economico, porta dei vantaggi a tutti, perché invece le guerre portano vantaggi a pochi e svantaggi a tantissimi. Guardiamo la nostra situazione, la guerra in Ucraina ha portato un aumento incredibile per quanto riguarda il gas che abbiamo subito tutti, l'elettricità in generale, ha fatto chiudere aziende, ha messo in difficoltà famiglie, quindi questa è una dimostrazione di come insomma una guerra possa mettere poi in ginocchio anche un'economia. E non è diverso quello che sta succedendo in Medio Oriente perché è notizia di stamane che insomma è pericoloso ormai passare per il canale di Suez perché insomma partono, non si sa bene da dove, partono degli attacchi a queste navi da parte di chi è vicino a Damas, vicino alla Palestina e quindi bisogna circonnavigare l'Africa. Voi potete immaginare con dei costi assolutamente di trasporto in aumento che necessariamente si riverserà sui consumatori che in certe materie prime ma non solo se le vedranno addirittura raddoppiate queste le previsioni e non si sa quanto tempo questo potrà durare. Quindi insomma una politica estera più oculata, una politica estera più interventista ma nel senso della pace, nel senso di intervenire come poteva e potrebbe essere in futuro nei confronti di Israele. Anche qui io non so se Netanyahu alzerebbe così tanto la cresta se di fronte avesse uno come Donald Trump invece di avere uno come Joe Biden che insomma è stato il protagonista in questi tre anni delle gaffie incredibili che abbia mai fatto un presidente americano e sicuramente un presidente non all'altezza di una grande nazione. Quindi poco tanti che siano dei vantaggi ci saranno, ci potrebbero essere se vincesse Donald Trump e poi ci sarebbero sicuramente anche per quanto riguarda questo nuovo sistema che sta avanzando, che riguarda il modo di vedere la famiglia, il mondo LGBT, il mondo dei gay, sappiamo perfettamente quali sono le posizioni dei repubblicani e di conseguenza del loro leader Donald Trump. Quindi è auspicabile davvero che Donald Trump possa di nuovo trovarsi di fronte a Joe Biden ma a questo punto poi i repubblicani dovranno prepararsi un po' meglio perché quello che è successo nelle scorse elezioni nel 2020 è anche un po' colpa loro perché sappiamo bene che certi brogli si possono perpetrare se dall'altra parte c'è poco controllo, poca attenzione, poca vigilanza. Quello che forse, non lo sapremo mai neanche questo, è successo perché è strano, ci ricordiamo tutti, Trump era in larghissimo vantaggio per quanto riguarda le schede scrochinate e poi improvvisamente sono arrivate per posta queste schede e hanno ribaltato incredibilmente un risultato cosa della quale abbiamo parlato più volte, assolutamente inverosimile. Con questa notizia vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.